Marianna Vianello, buonasera. Buonasera, grazie per l'invito. E benvenuta, benvenuta davvero qui nel posto delle parole per condividere, noi lo facciamo con molto piacere, KidPass, scopri il mondo a misura di bambino. Ora, le iniziative dedicate ai bambini sono tante necessariamente, ma questa in particolare noi desideriamo raccontarla perché è un progetto che è necessariamente da conoscere, perché ai bambini noi dedichiamo giustamente il tanto tempo, facciamo fare molte cose, e qui c'è la possibilità di far fare altre cose, e tra poco andremo a capire meglio. Marianna Vianello, lei è la presidente di KidPass. Per chi non conoscesse queste due parole, che cosa significano? Ma siamo un po' proprio la bussola delle famiglie con bambini in Italia, questo è un po' il senso, no? Una bussola è un lascia passare, perché anche i luoghi che fino a un po' di tempo fa si pensavano un po' preclusi alla fascia dei più piccoli e dei giovanissimi, e aprono le porte, e quindi anche il mondo della cultura diventa a misura di bambino, grazie anche a progetti come quelli che seguiamo noi e promuoviamo noi. Il bello è che noi da sette anni che facciamo questo lavoro, infatti questa manifestazione dei KidPass Days, che sarà il 15-16 maggio, è la settima edizione, e anno dopo anno vediamo sempre più realtà del mondo della cultura aprire le porte alle famiglie con bambini. E questa maratona nazionale del 15-16 maggio coinvolgerà diverse città, coinvolgerà diversi punti di grande attenzione culturale, tra poco li andremo a elencare, ma soprattutto coinvolgerà i bambini e le loro famiglie, ma in particolar modo i bambini sono cento eventi in cento spazi culturali da tutta Italia, gli appuntamenti di presenza, necessariamente oggi come oggi parlare di appuntamenti online è normale, tutto questo per festeggiare che cosa? La ripartenza delle iniziative culturali, e ci fa molto piacere parlare di questa ripartenza partendo dai bambini, Marianna Vianello. Eh sì, quest'anno veramente coincide questa ricorrenza, perché appunto è ormai un appuntamento fisso, che abbiamo insieme al mondo della cultura veramente da nord a sud dell'Italia, e quest'anno è proprio un ripartire tutti insieme con un grandissimo programma, noi lo chiamiamo di edutainment, con questo termine che mette un po' insieme l'aspetto educativo all'aspetto anche divertente, ludico. Che devo dire da genitore, oltre che da ruolo appunto che rivesto in KidPass, che è una chiave per riscoprire e scoprire il patrimonio culturale italiano, anche per noi adulti insieme ai bambini, perché si vedono e si scoprono le cose con un'ottica che mai avremmo immaginato. Quindi non so, ad esempio andare a Palazzo Vecchio con una visita guidata per bambini è tutta un'altra cosa, un altro mondo da scoprire rispetto a una visita fatta magari da grandi, senza i piccoli. Io lo consiglio vivamente a Marianna Vianello, questa è la mia grande passione, quando vado a vedere le mostre, dopo aver guardato la mostra con la guida, io sempre partecipo a quelle con i bambini, perché trovo che sia quando la guida ha veramente una capacità di eloquio alla portata dello sguardo dei bambini per scoprire delle cose che noi grandi diamo per scontato. Eh sì, sì, ma ad esempio nel programma del prossimo, non questo weekend, appunto quello successivo, ci saranno tantissime cose anche uniche, proprio un'occasione, come dire, irripetibile, perché ci sono proprio degli appuntamenti che capitano solo in questo momento dell'anno che vengono proprio proposti in occasione dei Kid Pass Days, perché ormai c'è proprio l'aspettativa dei musei di questo momento per proporre, ad esempio, un nuovo passaporto, una nuova caccia al tesoro, una nuova visita guidata e quest'anno non tutti sono riusciti a proporla subito in presenza, però ci sono comunque diverse iniziative in presenza e chi non è riuscito, appunto, o non se la sente ancora di organizzare l'attività dal vivo propone dei giochi, delle attività, dei tutorial, degli appuntamenti in streaming online, insomma, per comunque essere presenti anche da casa. E necessariamente noi qui, in questa breve conversazione, insieme con Marianna Aprile, non possiamo citare tutti quanti i luoghi, questi cento luoghi che andranno a comporre questo puzzle straordinariamente ricco di colore e di stupore, sembra di vedere lo sguardo dei bambini a bocca aperta, e per capire, per conoscere questo progetto, per scoprire le città che aderiscono il sito di riferimento e kidpass.it. Ma vogliamo, insieme con Marianna Vianello, andarne a scoprire alcuni di questi posti straordinari, perché si parte dal nord, si arriva a sud in una carta geografica straordinariamente ricca di possibilità, di attenzione culturale e di stupore, torno a usare questa parola perché mi sembra corretta parlando dei bambini rispetto all'arte, rispetto a questi posti. Che cosa ci racconta Marianna Vianello? Ma do solo alcune chicche perché poi invito veramente tutti ad andare a scoprire il programma e a cercarlo appunto nella propria città, nella propria regione. Ma ad esempio a Venezia, noi siamo, abbiamo sede a Venezia, e quindi mi viene in mente come prima cosa la mia città. Ci sono tantissime iniziative, c'è ad esempio la possibilità di fare una passeggiata misteriosa, oppure la caccia al leone, in giro proprio per la città, oppure c'è la possibilità di fare un'esperienza particolare a tema antichi romani al Museo archeologico di Venezia. Poi ci sarà Ocean Space, che è uno spazio che attraverso l'arte sensibilizza la conoscenza degli oceani, in alto tra l'altro nel 2019, quindi recente, che farà invece un'attività digitale. E su Venezia sono tantissime le cose. Ci sarà anche nella maratona streaming del 16 maggio la Fondazione Querini Stampalia, insieme alla scrittrice Stella Nosella, in cui si parlerà dell'alchimia, ecco, perché nel museo della Fondazione Querini Stampalia c'è anche questo tema. Ma poi le città più importanti, che offrono tantissime iniziative, sono anche Milano, Torino, Firenze, Roma, Bologna, c'è anche Palermo, Napoli. Quindi addirittura, se posso citare anche questo, perché per me è stata una soddisfazione quest'anno, avremo ospite il Presidente di Città della Scienza di Napoli all'apertura della maratona streaming di domenica 16 maggio. Quindi siamo onorati. Eh sì, anche perché questo è un sito importante, ha avuto anche diversi problemi ai noi, e quindi è una rinascita del Museo della Scienza e Tecnologia, anzi no, mi sto confondendo, non è la città della scienza, ecco, la città della scienza di Milano, che è un esempio a livello internazionale, ma anche per esempio a Torino la villa di Stupinigi, una straordinaria cosa, oppure a San Sepolcro il museum di Aboca, Aboca l'azienda nota in tutta Italia, ed è anche un modo per conoscere come un'azienda, come in questo caso Aboca, ha un aspetto culturale, è anche per esempio una casa editrice, oppure il Museo del Novecento a Milano, sono luoghi che forse sono già molto conosciuti, ma visti con questa prospettiva diventano del tutto nuovi, Marianna Bianello. Esatto, esatto, ad esempio il Museo di Aboca a San Sepolcro non è noto a tutti, sicuramente Aboca è famosissimo come brand, però questo museo è veramente un gioiello perché ha proprio un approccio storico alle scienze e alla scoperta ad esempio delle erbe, la conoscenza scientifica di tutta questa tematica e ci sarà un bellissimo laboratorio, sempre nella Maratona Streaming di domenica 16 maggio, con loro a tema Leonardo da Vinci, quindi insomma bellissimo, imperdibile. Imperdibile sicuramente, sicuramente qui abbiamo semplicemente a questo punto bisogno di una parola che ci faccia muovere da casa e raggiungere questi luoghi il 15 e il 16 di maggio, ovvero questa parola, la parola curiosità. Parliamo, prima di chiudere questa conversazione, Marianna Bianello, invece della parte online, in che cosa consiste? Sì, allora, online ci saranno diversi tipi di attività, sia dei laboratori, alcuni in diretta streaming, sul canale YouTube di KidPass e la pagina Facebook di KidPass, questi tutti concentrati domenica 16 maggio, in cui faremo veramente una grande maratona che sarà vivibile in diretta per chi può, ma chi desidera lo può anche vedere in differita e sarà dalle 10 di mattina alle 18, quindi senza mai fermarci tutto il giorno, è il bello che saremo collegati appunto dalle varie parti d'Italia con questi musei meravigliosi. Poi ci saranno anche delle attività online, dei giochi, dei laboratori tutorial, insomma, quindi ci saranno diverse cose da poter fare anche con una galleria che poi dura nel tempo e può essere vissuta anche dopo queste date, le 15 e 16 maggio, ecco. Quindi l'invito è sicuramente per chi può di partecipare alle attività in presenza per celebrare un po' anche questa ripartenza e poi sfruttare anche questa occasione di tutti questi grandi, bellissimi materiali online e streaming che poi ci servono per farci venire voglia, soprattutto appunto per far venire la curiosità ai bambini di andare a scoprire dal vivo questi posti, no? E questo è importante, andarli a scoprire dal vivo insieme con i genitori e mi sembra una cosa importante perché come diceva in apertura di conversazione Marianna Vianello, perché questo serve ai bambini e serve anche agli adulti, un dialogo continuo, al di là della frequentazione che è molto importante, no? Dei numeri, che cosa vi aspettate da questa edizione 2021? Ma ci aspettiamo proprio di avere anche un po' come dire la serenità finalmente di riaprire, di ricominciare, di ritrovare anche un po' la normalità perché i musei hanno sofferto tanto in questo periodo come tantissime altre realtà, ma insomma sicuramente il mondo della cultura ne ha risentito tanto e quindi proprio c'è la voglia, io penso anche proprio a tutti i lavoratori del mondo della cultura, c'è proprio la voglia di tornare a rivedere i propri musei vissuti, riempiti dalle persone che possano tornare ad apprezzare e a vivere di nuovo l'arte, l'archeologia, la scienza e insomma quindi proprio tutti ne abbiamo bisogno. Siamo noi, come dire, fruitori, ma ancora prima chi lavora in questo settore. Eh sì, ancora prima chi lavora perché dietro un museo non c'è semplicemente una mostra che noi andiamo a vedere o dietro un'attività culturale, non c'è solamente il cosiddetto evento, ma dietro una mostra, dietro un evento culturale ci sono tante persone che lavorano, non si vedono, ma ci sono tante persone e questo credo che sia importante, visitare in questi due giorni questi punti culturali di estrema attenzione e poi soprattutto quando uno prende la voglia di visitare spazi di cultura è una voglia che rimane e dobbiamo far sì che questa voglia rimanga anche nei nostri piccoli. Mariana Vianello, prima di salutarci invece, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? Allora, in questi giorni ci fa compagnia, lo sto leggendo insieme a mio figlio, però è bello anche per i grandi, Sebastian Chronicles, che è una saga scritta da Stella Nosella, che è una scrittrice veneta di Porto Gruaro e ha scritto tantissimi libri, ma questa è proprio una saga dedicata proprio alla scoperta dell'archeologia e dei musei attraverso delle avventure coinvolgenti e devo dire che è proprio bello anche per me, che sono adulta, poter condividere questo libro insieme a mio figlio, che ha otto anni. Quindi stasera leggerà una parte di questo libro a suo figlio, Maganna? Andiamo avanti, assolutamente, andiamo avanti insieme perché tutte le sere abbiamo quei quarto d'ora, venti minuti prima di dormire in cui andiamo avanti con questo libro. E a proposito di libri, kitpass, kitpass.it per capirci, anche una pagina dedicata ai libri consigliati dalla scrittrice Stella Nosella. Credo che sia una cosa veramente molto bella perché vedo qui Il mago delle bolle, quello che diceva lei e poi Innamorati o Innamorati di Elen del Forge, un libro molto bello tra l'altro con delle illustrazioni straordinarie, Battito d'Ali di Daniela Rossi e sono veramente delle opportunità e torno a utilizzare la parola curiosità che è una parola sicuramente l'arma vincente per attraversare tante cose e anche la parola cultura. Grazie, grazie davvero. E anche per noi per tornare bambini, ecco. Oltre che fare contenti i nostri bambini facciamo contenti anche noi che ci fa bene. A voglia perché riprendere un po' quello sguardo bambino forse ci è utile. Di nuovo tante grazie. Buona serata. Grazie mille. Buona serata.